Ciao! Allora, come potete vedere dai miei compagni di video, questo è il video relativo ai libri letti nel mese di aprile, che sono abbastanza, sono per la precisione 7, di cui però uno è un graphic novel, comincerei proprio da quello. Allora, io mi sono innamorata di Marjane Satrapi quando ho letto Persepolis e ho visto il film, che ho amato, e quando poi in Feltrinelli ho visto che era uscito, anzi in Fnac, ora che leggo dietro l'etichettina del negozio me l'ho preso, comunque quando ho visto in libreria che era uscito questa nuova graphic novel, Pollo alle prugne, per Sperling e Kupfer, ho deciso di prenderlo subito, non ce ne ho neanche pensato un attimo. Mi è costato 15 euro, c'erano dietro recensioni chiaramente meravigliose, che decantavano la bellezza di questa graphic novel, che si posiziona in qualche modo in un'intersezione di Persepolis, della storia di Persepolis. E quindi è la storia dello zio suonatore di Sitar, che compare in alcuni passi di Persepolis. È del 2004, pubblicato da Sperling e Kupfer nel 2005, ed è alla sesta edizione. Ora, chi conosce Marjana S. Trapi sa che le sue graphic novel sono così, sono in bianco e nero, con questi personaggi meravigliosi, con queste facce stupende. E la storia, devo dirvi la verità, sono un po' rimasta delusina, nel senso che Persepolis era argutissimo, ironico, divertente. Questa, a parte essere una storia molto triste, ma oltre per il contesto in cui viene raccontata, anche per la storia vera e propria dello zio, che è il suonatore di Sitar. E diciamo che la storia comincia così, con il Sitar che si rompe, e quindi è già una tragedia dal principio. E poi prosegue, io lo chiamo Sitar, in realtà qua lo chiamano Tar, non vorrei che fossero due cose diverse. Comunque, insomma, questo strumento qua. E quindi è una storia molto triste, è la triste storia dello zio suonatore di Tar. Però, insomma, se vi piace Marjana S. Trapi, secondo me, vale la pena di leggerlo. È un altro capitolo di Persepolis, anche se rimane nettamente inferiore a Persepolis, secondo me, questa graphic novel. Mi piace tantissimo la copertina, in ogni caso. Voi sapete che io sono una fatica delle copertine, a parte essere in tinta con la copertina oggi, ma mi piace veramente molto la copertina. Andiamo oltre. Dopo quello, credo, non lo so, non mi ricordo più in che ordine li ho letti. So che ce ne sono tre che sono strettamente concatenati e vorrei parlarvi proprio di quelli. Avevo comprato, questo penso da Feltrinelli, nel momento in cui c'erano delle offerte sulla Universale Economica Feltrinelli, Arrivederci piccole donne di Marcella Serrano. Questo è un libro del 2004, alla sua quarta edizione del settembre 2009. Ed è un libro meraviglioso. Arrivederci piccole donne, io me ne sono follemente innamorata. È la rivisitazione della storia delle piccole donne ambientata in Cile, ambientata in Cile durante, prima, durante e dopo la dittatura e la guerra civile. E narra la storia non di quattro sorelle, bensì di quattro cugine, i cui destini però sono strettamente collegati come se fossero delle sorelle, sia l'una all'altra, sia alla storia del paese. E quindi vivono le vicende storiche del paese, sia come famiglia, sia come persone, sia come cugine, sia una relazionata all'altra. E chiaramente le cugine, le quattro cugine, Nieves, Ada, Luth e Lola, legate sin dall'infanzia ad un luogo della campagna cilena dove passano le stati, che è casa della vecchia zia, eccentrica e generosa, che ricorda in qualche modo la zia delle piccole donne della Alcott. Sono definite con i nomi, diciamo che ogni capitolo racconta la storia di una delle quattro cugine e ognuna di loro viene avvicinata, viene paragonata a una delle sorelle, a una delle piccole donne in qualche modo. Bellissimo, quindi ci sono Joe, Amy, Beth e... me ne sono persa una, sono come piccole, sono come i sette nani, me ne manca sempre una. Meg, oh, uguale ai sette nani, me ne manca sempre uno. Sono ognuna delle quattro cugine e poi, diciamo così, messa in relazione a una delle quattro piccole donne, a una delle quattro sorelle e quindi Beth, Amy, Joe e Meg. Bellissimo, io questo veramente ve lo consiglio tantissimo, mi era costato, vabbè, sette ore e cinquanta e in più sicuramente c'era una promozione, non so più se del 15 o del 25, comunque questo libro è meraviglioso, dovete assolutamente leggerlo. Era così bello, è stato così bello leggere questo libro, che mi sono ricordata di aver letto le piccole donne della Alcott, quindi l'originale, solo in riduzione per ragazzi. E quindi cosa ho fatto? Sono andata a comprarmi le piccole donne e le ho divorate. Non me lo ricordavo così, io avevo letto una riduzione da bambina, da ragazzina probabilmente, mia mamma dice che in realtà non avevo letto neanche quella perché mi ero sempre rifiutata. Avevo sicuramente visto quel meraviglioso film della Disney sulle piccole donne, che so praticamente a memoria. Comunque tant'è, Oscar Mondadori, 9 euro, le piccole donne di Louisa May Alcott. Di questo non sprecarei neanche tempo a parlarne la storia, è abbastanza classica, è abbastanza conosciuta, quindi ci sono le quattro sorelle March, appunto in ordine Amy, Beth, Meg e Joe. Ognuna incarna, secondo me, una delle caratteristiche che poi vengono fuse tutte insieme nelle donne, quindi abbiamo l'energica e assolutamente inarrestabile Joe, abbiamo la romantica Meg, l'ambiziosa Amy e la dolcissima e caritatevole Beth, in qualche modo. Vivono nella metà dell'ottocento in America, sono vicine di casa di questo ricchissimo proprietario terriero che ha un nipote più o meno della loro età con cui entrano in contatto e sono le vicende di queste quattro piccole donne. La cosa divertente che ho scoperto è che il titolo originale è Little Women, quindi proprio piccole donne. Quello che non sapevo è che la seconda parte, che si chiama in italiano Le piccole donne crescono e che chiaramente sono andata a comprarmi e ho letto in questa edizione, deve essere Burra, sì Burra Ragazzi che però ha il test integrale che mi è costata 8,90 euro e che vi dirò mi piace anche abbastanza come edizione, è scritta bella grande, ha delle pagine belle spese, mi piace molto. Il titolo delle piccole donne crescono in realtà è Little Wife, quindi le piccole, good wives anzi, le buone mogli. Quindi c'è proprio, già qui si spiega tutto il passaggio tra le piccole donne e le piccole donne crescono. Le piccole donne crescono e iniziano a sposarsi, iniziano ad avere delle storie d'amore, la loro vita inizia a prendere la piega non più adolescenziale ma di vere e proprie donne, benché siano molto molto giovani. Però siamo anche alla metà dell'ottocento, quindi bisogna contestualizzare il racconto. Il film, l'omonimo, il celeberrimo film della Disney, in realtà è una sintesi di questi due insieme. Ho scoperto, non so se si fosse capito ma mi sono piaciuti tantissimo, mi sono piaciuti così tanto che sono andata a indagare e ho scoperto che in realtà si tratta di quattro libri, una serie di quattro libri. Le piccole donne, le piccole donne crescono, piccoli uomini e i ragazzi di Joe. Perché, non faccio spoileraggio, benché si tratti di classici, quindi bene o male tutti più o meno la storia la si sa, finisce in il piccole donne crescono, non finisce. Finisce con un nuovo capitolo della vita di Joe che si apre e che appunto è il preludio a piccoli uomini e poi ai ragazzi di Joe. Che sono introvabili? Io ho trovato, dopo questi due, ho trovato il volume collettivo dell'Einaudi con tutti e quattro i romanzi all'interno, però avendone già due a casa mi sembrava assurdo doverne comprare uno dove c'erano dentro anche questi due che ho già letto e che tra l'altro ho già. Allora, li ho ordinati in delle edizioni per ragazzi degli anni 80 che hanno delle copertine allucinanti che sto aspettando che mi arrivino per proseguire la mia tetralogia, la mia saga, perché oramai sono appassionatissima della Alcott, ve lo dico. Quindi aspetto che mi arrivino gli altri due. Quindi questi tre qui praticamente sono collegati uno all'altro, perché dopo aver letto la Serrano ho capito che non potevo vivere senza aver letto la Alcott e ho letto anche la Alcott, finché me ne hanno dati. Quando poi hanno smesso di foraggiarmi con la Alcott, sono tornata nella contemporaneità diciamo e ho letto David Grossman, Che tu sia per me il coltello. Questo è dell'Oscar Mondadori e costava 10 euro di copertina, ma io l'ho pagato anche questo in promozione durante, penso da Feltrinelli, quando c'erano o il 15 o il 25, anche quello. È un testo del 99, 1999, scritto appunto da David Grossman, che è uno scrittore di Gerusalemme. È un libro molto particolare. A me, premetto, è piaciuto molto, anche se è a tratti disturbante, cioè si inserisce perfettamente nel filone con le caratteristiche che io abbino agli scrittori ebrei. Ossia, molto filosofico, molto introspettivo, diciamo che entra nella psiche, nella parte più intima e privata di un uomo e di una donna. di un uomo e di una donna che non si conoscono, si incontrano per caso ad una festa, lui nota lei e si informa su chi lei sia e inizia a scriverle delle lettere, le propone uno scambio epistolare, una relazione epistolare che rimanga solamente epistolare, ma che vada a inserirsi in un buco che lui sente della sua vita. Ossia, lui vorrebbe poter raccontare a lei quello che non può raccontare a nessun altro, quindi la parte più intima, profonda e nascosta chiaramente. Lei accetta e quindi la relazione epistolare inizia. Il libro è diviso in tre parti. La prima parte noi leggiamo solo le lettere di lui, di Yair. Nella seconda noi leggiamo degli scritti di Miriam, quindi di lei. E poi c'è una parte conclusiva. Chiaramente non vi dico nulla perché non faccio spoileraggio. Che tu sia per me il coltello è l'invito che Yair fa a Miriam perché vuole che lei penetri nelle parti più recondite, remote del suo io. Ed è per quello che vi dico che è a tratti disturbante perché le parti segrete più profonde dell'io di una persona possono essere disturbanti. Ci sono degli strati di grande sentimento, di grandissimo dolore. È come leggere un flusso di coscienza però con la punteggiatura. È come entrare proprio nella mente di qualcuno che però razionalmente la sta mettendo su carta. Il finale è assolutamente inaspettato, ve lo dico. Accarezza, è un libro che accarezza i drammi e le tragedie quotidiane di due persone assolutamente normali. Lasciandone però entra a vedere soltanto i contorni, non entra mai nel dettaglio della vita. Sono tutte, si danno per scontato l'un l'altro determinate informazioni che in realtà l'altro non conosce. Insomma, la mia recensione è un casino, me ne rendo conto. Ma perché il libro è così e quindi rispecchia moltissimo il libro? Che mi è piaciuto molto, molto. Anche se è una lettura particolare. Mettiamola così. Se mi vedevate che fissavo sotto è perché mi prendo gli appunti di quello che vi voglio dire dei libri, così non me li dimentico. Poi le ultime due letture sono due letture un po' particolari perché non sono romanzi. Sono dei saggi, due saggi che io ho comprato alla mostra della Pixar a Palazzo Teamantova. Vi lascio qui il link del video dove parlo della mostra. E alla fine della mostra avevo appunto comprato questi due testi, molto brevi, di questa Tune, Tune Editori. Allora, il primo è questo qui, i Simpson, i Griffin & Co., le sitcom animate dalla preistoria dei Flintstone ai giorni nostri di Davide Caci. Mi è costato 4,90 euro. È un libretto molto carino con anche le immagini delle varie sitcom animate ed è appunto una panoramica molto breve perché sono 80 pagine piccoline con anche le immagini dentro. È una panoramica appunto di tutte le sitcom animate da Anne e Barbera, quindi da Flintstone, i pronipoti, i Jetson, fino a, non so, c'è Daria, ci sono Beavis & Butthead, i Griffin, Futurama, American Dead, insomma ci sono un po' tutti. e cerca di andare ad analizzare da cosa nascono queste sitcom, le idee, il contesto in cui vengono create, quindi il contesto sociale storico del momento in cui nascono le varie sitcom e qual è il messaggio che vogliono trasmettere. Trattando le sitcom animate come un ibrido televisivo. È abbastanza agile, abbastanza leggibile, non so se per scelta probabilmente sì, è molto sbrigativo, cioè non è che arricchisca in maniera esaltante, ecco è una panoramica mettiamola così, uno poi dovrebbe andarsi a guardare i libri del riferimento bibliografici praticamente della bibliografia se è interessato ad approfondire, perché veramente dà degli spunti ma non va mai nel dettaglio a risolvere le varie cose. È molto carino nell'appendice che dà le date di inizio, di fine, il numero di stagioni, il numero di episodi, eccetera eccetera di ogni sitcom, appunto dagli antenati ai boondocks, che io non ho mai visto, dovrò andarmi a informare. Questo quindi, vabbè. E l'altro che ho letto invece è molto interessante, è questo, Supereroi, Araldi che simbologia dell'eroismo dai miti classici a Superman e The Authority, di Ivan Baio, sempre tu noi editori, 12,50 euro, e questo è un saggio molto, molto, molto interessante, dove si analizzano non tanto, ma anche le storie dei supereroi, le figure dei supereroi, ma soprattutto la simbologia che sta dietro i loro simboli, appunto. andando a parlare di archetipi, andando a parlare di labirinto, frecce, facendo dei paragoni anche con la storia, quindi con la svastica, con i simboli di tutti i giorni, con i simboli delle marche, dei brand di tutti i giorni, e poi appunto analizza, non so, questo è quello di Batman, i vari simboli, li relaziona al messaggio che il supereroe vuole mandare, alla sua storia, come si inserisce all'interno della società, come ruolo, è assolutamente complesso, a volte è un po' pindarico, va un po' all'azzardo in certe interpretazioni che possono suonare anche un po' forzate in alcuni casi, e ve lo dico, nel senso che sono proprio, però dà molti spunti di riflessioni interessanti, chiaramente essendo un saggio complesso, molto dettagliato, ha uno stile un po' poco scorrevole, al contrario a volte risulta troppo sintetico, dando per scontate molte informazioni che a volte compromettono anche, almeno che hanno compromesso a me, di seguire tutto il ragionamento fino in fondo, quindi diciamo che questo è un ni, nel senso che ci sono degli spunti interessantissimi, mi è piaciuto, mi è interessato molto andare a scoprire la questione del labirinto, la questione delle frecce, insomma, tutta la raldica che c'è dietro, anche se l'ho trovato a volte è difficile da capire, a volte non c'era proprio da capire, nel senso che dava per scontato delle cose che io non sapevo, mentre invece questo è un no, non mi è piaciuto, no, non mi è piaciuto, che dire, di questo qua vi ho già detto quello che pensavo, mentre invece i miei quattro romanzi di questo mese, cioè se dovessi scegliere, se dovessi scegliere vi direi di lanciarvi a pie pari su questi tre, quindi dalla Serrano alla Alcott, fatevi sapere se sapete di qualche casa editrice che ha pubblicato gli altri due della Alcott, perché a questo punto sono abbastanza disperata, e è bello anche questo comunque, se vi sentite pronti è bello anche questo. Ecco, quindi queste sono le mie letture di questo mese, il mio mese di aprile, e ci vediamo nel mese di maggio, buona lettura, un bacione!